musica 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 questo mi ha rotto il cazzo un po' è lo segnalo no e vabbè perchè lasga me lo e vabbè questo l'avevo preso sei serio sei serio perchè sei nell'angolo come un verme bastardo che due palle ditemi voi se potete vedere un gameplay del genere in cui io sclono e muoio in continuazione per questi personaggi del cazzo che devono usare le armi musica 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 siamo nella seconda partita nuke town lobby tipo di merda però non è ancora speriamo si riempia e allora look town è una buonissima mappa per le clip comunque provano a fare qualcosa allora ci dirigiamo subito qui ok 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 stanno entrando per fortuna perchè non era abbastanza triste la lobby si muori tu ok ok allora qua 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 oh what avete visto l'altro cioè no è una cosa assorta e il bello è che ho quattro tacche quella è una cosa bella allora dirigiamoci allo spawn come c'è nessuno preso 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 sponaggio nessuno qua nooo mi ha laggato preso uno eh maio non ho scopo che va ok oh uno scopo è andato è andato quello evolve quanti vabbè c'è una pippa ok sponata perchè 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 non mi ha dato quel qui eh marca dietro wow perchè adesso vediamo se ho laggato no no ho laggato perchè mi lagg ci ho quanti uno due nooo raga un po oddio è ormai uno scopo mai altro l'alleato ma torretta no pure la torre che palle no guarda la torretta mi spara ai wallbang in serio guarda la torretta è un cecchino come fa a sapere che sono lì guarda la torre no 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 oh ma io prendo oddio no scopo porta uno no non mi uccidere allora non spona nessuno perchè perchè non spona nessuno oddio quanti no era collaterale perchè non mi dà mai niente il colpo gli passa in me ok adesso riprendiamoci la chicca sono interessato si lui spara bella la bella mi è piaciuto bellissimo uno due c'è nessuno dov'è chi è che perchè il cerberus poi ecco perchè li stegno perchè ecco cosa significa giocare faccio schifo accoggio uno due tre preso va glielo ziii eh che palle potevo grippare vabbè altro fail della giornata vabbè quella classica diciamo normale amministrazione l'avevo preso dio mio dio coraggio potete fare bene non mi ricordi adesso spero finisco a tutto presto perchè non ne posso fare questa partita è un'agonia vai esci no mica esce il bastardo dico 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 poter i dati se mi god 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 attaccati al cazzo attaccati al cazzo sono in clip su di me video di stanza il video così proprio arrabbiati incazzati comunque ragazzi lasciate un bel mi piace prima di arrivare dj per i prossimi video soprattutto anche lasciate un commentino e iscrivetevi al canale che mi fa sempre molto piacere noi ci becchiamo alla prossima bella raga ciao 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 ciao